Questo video è sponsorizzato da Neba, sito di chi attraverso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi. Con un 2023 che già da ora appare incredibilmente ricco di prodotti imperdibili, potrebbe rivelarsi assai utile risparmiare qualche soldino senza dover rinunciare ai vostri titoli più attesi. Vi fu un periodo lontano, dimenticato o da molti neanche vissuto, in cui Sega era sulla cresta dell'onda, uno dei grandi leader del mercato videoludico che tra gli anni 80 e 90 dominavano la scena, pronta a combattere con le unghie e con i denti per riemporsi con sempre maggior forza innanzi al pubblico. Tra un Sega Master System e un Mega Drive però serviva anche un nome di richiamo, qualcosa che potesse far sudare freddo Nintendo, la quale tra NES e SNES se la stava godendo fin troppo alla grande. E tra idee scartate e prodotti cestinati, ecco infine a arrivare Sonic the Edgehog. La grande N poteva tenersi il suo idraulico lento e impacciato, bravo solo a mangiare funghi allucinogeni. I veri gamer si sarebbero potuti divertire con quella freccia di porcospino blu che in barba alle limitazioni tecniche poteva letteralmente volare da una parte all'alta dello stage in pochi secondi. Dopotutto… Quelli furono anni d'oro per Sonic. Ogni nuovo capitolo segnava nuovi record di vendite e la critica si lanciava in meritatissimi elogi che spingevano sempre più persone a toccare con mano quell'incredibile brand. Vivace, colorato e velocissimo. Una vera e propria gioia per il pad che seppe conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo. L'avvento della terza dimensione fu un momento storico per la nostra amata industria. Di colpo centinaia di team, grandi e piccoli, dovettero rimettere in discussione tutto ciò che conoscevano sullo sviluppo videoludico. Dalle meccaniche di gameplay ai più variegati stili artistici, tutto venne rivisto. Nuove importantissimi IP vennero alla luce, serie rinomate incapaci di stare al passo coi tempi, vennero abbandonate e brand di grande prestigio furono rimaneggiati per poter tenere alto l'interesse del pubblico. Brand tra i quali figura ovviamente anche il nostro caro vecchio riccio supersonico, il tutto accompagnato da una marea di inciampi. Non è infatti un segreto che SEGA abbia avuto enormi difficoltà nel rimettere in carreggiata la sua creatura, ritrovatasi protagonista di una marea di nuove visioni creative e spesso molto confusionarie. Ci sono stati disastri quali Sonic Boom, Sonic the Edge of 06 e Sonic Riders, prodotti di buona qualità come Sonic Generations, Sonic Adventure o Sonic Colors e una marea di produzioni quanto meno strane. Sonic Lost World che riprendeva in un certo senso l'idea di fondo vista con Mario Galaxy, Sonic il Cavaliere Nero che vedeva tutti i personaggi del brand trasposti in una specie di fiaba medievaleggiante in stile Rare 2 con tanto di spada parlante al seguito o ancora Shadow of the Hedgehog dove impersonando un porco spino dei colori socialmente poco accettati ci saremmo ritrovati a imbracciare un mitra sparando contro le forze di polizia. Insomma, è stato un casino, un casino durato oltre vent'anni durante i quali la serie non è mai riuscita a risplendere, poi certo sono anche usciti dei bei prodotti, ma nessuno seppe eguagliare i successivisti durante l'epoca 2D. Forse l'unico gioco che si avvicinò realmente ai fasti del passato fu Sonic Mania, titolo che però eronicamente non solo tornava alla formula 2D, ma che venne anche sviluppato da un gruppo di fan a cui successivamente si accodò anche Sega, un po' uno schiaffo in faccia per lo studio nipponico Sonic Team che ormai da oltre 30 anni lavorava su questa rinomata e oggi alquanto controversa IP. La società nipponica doveva rimescolare le carte in tavola, dare un colpo di coda sufficientemente forte da riavvicinare i fan storici intrigando al contempo l'utenza più giovane. Una nuova visione per la serie che prese forma durante i The Game Awards 2021 con l'annuncio di Sonic Frontiers, nuova iterazione della serie che per l'occasione avrebbe introdotto... l'Open World. Sì, ancora lui, ancora una volta, un altro gioco con mega mappe liberamente esplorabili. Ma... ma basta, gente, basta! BASTA CAZZO! Sì, gente, ammetto che la scelta di trasporre anche Sonic in un contesto da esperienza open world, l'ennesima esperienza open world, non mi fece particolarmente impazzire, anzi mi diede abbastanza fastidio. Però un pochettino seppe intrigarmi, effettivamente l'idea di poter controllare un personaggio velocissimo all'interno di un mondo totalmente aperto, avrebbe potuto portare a dei risultati vincenti. Quindi, dai, vediamo un po' cosa ci diranno i primi trailer di gameplay, magari potrei addirittura restarne sorpreso! Sarò molto diretto con voi ragazzi, quei due primi video rilasciati dai GN mi fecero semplicemente cagare. In quei pochi minuti ciò che ci si parò innanzi non sembrava un gioco di spessore in sviluppo presso una delle compagnie nipponiche più famose al mondo, quanto piuttosto una demo universitaria con elementi messi totalmente a caso. Nulla appariva coeso, e lo stesso Sonic sembrava un modello preso sul momento e messo lì solo per far scena. Fu terribile, talmente terribile che cominciai a temere seriamente per il disastro videoludico più doloroso, e nonostante i trailer successivi misero in mostra un progetto si strano, ma comunque più interessante e funzionale, il danno ormai era fatto. Nelle mie orecchie ronzava incessantemente il timore di una produzione da buttare nel cestino dell'umido. Ma scusa Freccia, se avevi così tanti dubbi nei confronti del progetto, perché l'hai comprato? Ma dai ragazzi, che domande, è ovvio! Perché è un nuovo gioco di Sonic e col cazzo che lo lascio sullo scaffale? Così al day one, eccomi lì con la mia copia fiammante in mano, pronto a lanciarmi in questa nuova avventura. E cavoli ragazzi, mi ci diverto, mi ci diverto un mondo, mi ci diverto proprio perché Frontiers, contro ogni mia aspettativa, riesce a incarnare alla perfezione ciò che vorrei da un gioco di Sonic. L'avventura parte da una premessa abbastanza classica, il dottor Eggman decide di maneggiare con una strana tecnologia antica, finendo con il venir teletrasportato insieme al suo cerrimo rivale in questo strano cyber mondo fatto di lucette e pericolose creature. Che se ci pensiamo praticamente a un normale sabato pomeriggio per il nostro Sonic. Finiti in questa strana isola, il nostro compito sarà quindi quello di trovare i nostri amici, anch'essi rimasti bloccati nel cyber mondo, liberarli e trovare un modo per tornare a casa. Il tutto nel mentre che andremo scoprendo questa strana razza di creaturine piene di segreti affiancati da una bimba digitale che palesemente ci odia, desiderosa solo di farci la pelle. La sceneggiatura, ragazzi, non è nulla di stratosferico, ma si lascia seguire con gran piacere. Ci sono delle piccole crescite caratteriali per alcuni personaggi che mi sono assai piaciute e per quanto le vicende possano essere vissute tranquillamente da chiunque, i fan più navigati noteranno innumerevoli riferimenti e citazioni praticamente a tutti i giochi di Sonic e compagni, con un allor di fondo ben più intrigante di quanto avrei immaginato e anche capace di dare risposte ad alcune domande che praticamente ci portiamo dietro da decenni. L'opera mi è passata piacevolmente innanzi dall'inizio alla fine e fa il suo dovere senza particolari colpi di scena. Forse l'unico dispiacere è lo riassumere nelle battute finali, lì dove il villain principale appare un po' sprecato. Giocando ho sentito che sotto quel punto di vista si sarebbe potuto fare sicuramente di più. Se la narrativa mi ha dato più o meno quello che mi aspettavo, è però sotto il profilo ludico che le cose si sono fatte veramente interessanti. Di base il gioco si divide in due parti ben distinte, l'open world e gli stage più classici. Parlando di open world, in game dovremo muoverci all'interno di diverse isole seguendo un modus operandi ben preciso. Inizialmente la mappa di gioco sarà totalmente oscurata e sarà quindi nostro compito renderla visibile completando alcuni mini giochi che, oltre a farci vedere dove si troveranno tutti i punti di interesse più importanti, materializzeranno in giro per il mondo di gioco tutta una serie di rotaie e percorsi aggiuntivi da poter utilizzare per muoversi più agilmente. Una volta svelata la mappa dovremo raccogliere tre tipi di collezionabili. La prima tipologia sarà sparsa letteralmente ovunque, centinaia di punti di interesse che serviranno per interagire con i nostri compagni e proseguire nella storia. La seconda tipologia ci vedrà raccogliere invece ingranaggi necessari per attivare degli specifici piloni attraverso i quali accedere agli stage più classici. Stage che ci faranno accedere all'ultima tipologia di collezionabile, delle chiavi attraverso le quali potremo ottenere i sette caos emerald ben invisibili sulla mappa. E raccogliendoli tutti potremo affrontare il megaboss di turno che ci farà poi giungere sull'isola successiva. E sì, lo so, mi rendo conto che detta così in molti potrebbero affermare Ma Freccia, sembra un cagamento di coglioni incredibile, ma... ma che merda è? E avreste ragione a pensarlo, se non fosse che Sonic Frontiers riesce a rendere questo processo di raccolta incredibilmente divertente. Quando si pensa ai collezionabili di un gioco e fa non è facile immaginare un'azione molto monotona, figlia di prodotti quali Assassin's Creed, per dire uno dei nomi più famosi. Guardi la mappa, metti il segnalino, raggiungi l'ennesimo punto interrogativo, apri il forziere lì davanti a te... Complimenti! Hai ottenuto 56 monete d'oro! Te ne servono solo un altro milione e mezzo per poter creare delle spallucce in legno di pino! Ci rivediamo tra 174 bauli! Insomma, staticità, ripetizione infinita e zero sfida. Ebbene, in Frontiers le cose sono completamente diverse. Ogni collezionabile è una specie di mini gioco a sé stante, un piccolissimo stage. Per raggiungere ogni collezionabile è come se doveste affrontare un micro sacrare di Breath of the Wild, alle volte molto semplici, in altri casi un po' più complessi. In pochi minuti mi sono ritrovato a volare da una parte all'altra della mappa raccogliendo tutto ciò che mi si parava innanzi. Piccole sfide dove anche la furbizia del giocatore viene premiata. Se si è abbastanza spigliati, studiando la mappa e sapendo come funziona il sistema di movimento, soprattutto per quel che concerne scatti e salti, è possibile trovare innumerevoli modi per giungere a un collezionabile senza dover passare per la strada prefissata dal team. Ci si sente molto liberi in game e la velocità di Sonic contribuisce a non far sentire minimamente il peso di una mappa open world, visto che nei fatti la si può percorrere interamente in un paio di minuti scalando montagne come se niente fosse e volando con salti personici. Effettivamente la prima ora in partita può risultare destabilizzante, bisogna capire come muoversi ed è necessario entrare nell'ecosistema di gioco, ma quando si comprendono le meccaniche base ci si rende conto che innanzi a noi si staglia un enorme luna park ricco di possibilità e soprattutto pieno zeppo di cose da fare. Gli ingranaggi di cui vi ho parlato prima per esempio si ottengono in eliminando i nemici sparsi per la mappa, solo che ognuno di questi è un vero e proprio miniboss a sé stante con le sue caratteristiche, i suoi attacchi unici e le sue debolezze. Ogni scontro offre sempre qualcosa di nuovo e c'è davvero parecchia varietà in tal senso. Ci sono frutti sparsi in giro per la mappa con i quali potenziare attacco e difesa di Sonic, le isole saranno costellate di questi esserini che se raccolti ci permetteranno di aumentare velocità e quantità di anelli trasportabili, molto importanti visto che rappresentano a tutti gli effetti il numero di colpi che potrete subire, potrete disegnare peni in giro per la mappa, ogni azione che compirete in game vi farà guadagnare punti esperienza da utilizzare in un albero delle abilità attraverso il quale ottenere nuove combo per il combat system. C'è un combat system, mai avrei pensato di poterlo dire per un gioco di Sonic, ovviamente non è nulla di particolarmente complesso, ma è un enorme passo in avanti rispetto a qualsiasi altro gioco del porcospino. Le boss fight sono una più figa dell'altra, combattimenti che mescolano scene a metà tra Dragon Ball e Neon Genesis Evangelion, mentre la musica è sparata a palla, la regia se la gioca per rendere ogni momento maledettamente epico e tu stai lì a premere tasti come un forsennato perriando cazzottoni e schivando dozzine di missili. Trasformarsi in Super Sonic non è mai stato così fottutamente figo, il senso di potere che si prova durante gli sconti con i boss è semplicemente impagabile. Ben presto mi sono ritrovato immerso in questo game loop, estremamente soddisfacente e sempre intrigante, che con le sue innumerevoli sfide mi ha spinto al completismo più sfrenato. Volevo fare tutto e mi stavo divertendo nel mentre. Ed è qui che si arriva al secondo elemento di spicco del gioco, la ciliegina sulla torta. Gli stage. Da questo punto di vista l'avventura segue le basi tracciate fin dagli albori della saga. Parti dal punto A per raggiungere il punto B, il tutto all'interno di queste piccole mappe dall'ottimo level design con tante vie secondarie e segretucci vari per raggiungere alla fine. Semplice, diretto, immediato. Comperò una meccanica aggiuntiva che per me è stato un vero e proprio punto di svolta. Dovete sapere che a me delle statistiche e dei punteggi interessa relativamente poco e conseguentemente in tutti i giochi di Sonic che ho affrontato in questi decenni di ottenere il miglior punteggio possibile me ne sono sempre sbattuto le palle. E me ne sarei sbattuto anche in Frontiers, se non fosse che questa volta gli sviluppatori hanno inserito una serie di sfide bonus per ogni singolo stage. Completa il livello con un certo numero di ring, prendi tutti i ring rossi, finisci il livello entro un tempo limite. E a ogni obiettivo completato, eccoti un'altra chiave per sbloccare i Chaos Emerald. E questa piccola idea aggiuntiva, tanto semplice a livello concettuale, ha funzionato benissimo per me. Ho lottato con le unghie e con i denti per finire tutti i livelli nella loro interezza, obiettivi secondari compresi. E ogni volta la soddisfazione, gente. Riuscire a diestreggiarsi tra salti, scatti e schivate ha richiesto grande coordinazione manocchio e qualche bestemmia quella. Ma credetemi quando vi dico che ne valsa la pena. Detto questo, ovviamente non serve completare l'avventura al 100% per giungere ai titoli di coda, tutt'altro, se raccoglierete solo lo stretto necessario potrete finire il gioco in una quindicina d'ore senza alcuna difficoltà. Io che invece mi sono fatto completamente conquistare dal sistema di gioco, ce ne ho impiegate più di 40 perché ho voluto raccogliere tutto. Mai mi era successo con un gioco di Sonic. Purtroppo però, nonostante parecchi elogi fatti, l'esperienza soffre per diverse problematiche di fondo che vanno a rovinare almeno in parte il risultato finale. Prima fra tutti troviamo il popin degli oggetti presenti in game. Sostanzialmente tutti gli elementi platformici che potremmo utilizzare nelle fasi open world per giungere ai vari collezionabili sparsi in giro cicceranno fuori solo quando saremo abbastanza vicini. Il che non sarebbe un problema se non fosse che già dopo solo pochi metri di distanza tutto attorno a noi svanirà magicamente. E' difficile spiegarlo a parole ma sono sicuro che i video che vi avrò messo in sottofondo possano rendere molto chiara l'entità del problema. Alla fine ci si fa l'abitudine e sono stati pochi i casi in cui il popin mi abbia realmente complicato la vita. Ma credetemi quando vi dico che è una bella rottura di coglioni. Anche la telecamera ogni tanto fa le bizze. Può capitare che il gioco non riconosca qualche input che gli impartiremo. Di tanto in tanto mi sono compenetrato con qualche oggetto, parecchi puzzle sono letteralmente a prova di deficiente e mi sono diverse ingenuità di fondo che si fanno sentire. Ad esempio avendo puntato al completismo fin dall'inizio dell'avventura, già alla seconda isola mi sono ritrovato con Sonic praticamente maxato e con tutte le abilità sbloccate, il che ha fatto venire in parte meno il senso di progressione, se vogliamo anche per via dello stesso albero dell'abilità, non particolarmente paregato. Luce e ombre poi le troviamo anche sotto il profilo tecnico. Nulla da dire sulla colonna sonora, ci sono un sacco di tracce e molti mi sono assai piaciute, così come non ho nulla da dire nei confronti del lavoro grafico generale. Su PS5 e modalità prestazioni il gioco viaggia a 60 fps con tranquillità e la resa generale è più che buona, soprattutto gli stage classici appaiono particolarmente in forma, coloratissimi e pieni di chicche. Ciò che manca è un lavoro sufficientemente forte in termini dark direction, sia per gli ambienti che spesso sembrano fare quasi a botte con gli elementi più spiccatamente platformici con cui potremmo interagire, sia per quanto concerni i nemici che, salvo qualche rarissima eccezione, appaiono particolarmente anonimi. Insomma, Sonic Frontiers non è un gioco perfetto tutt'altro, ma resta un prodotto nei confronti del quale non posso che provare un profondo rispetto. Dietro al progetto si può sentire con forza la passione del team di sviluppo, il quale ha voluto sfruttare tutte le proprie capacità maturate in questi decenni per cercare di offrire un'esperienza che non fosse semplicemente diversa, ma anche più rifinita, e questo lo si può notare da tutte le sue componenti, dal gameplay alla colonna sonora, perfino la narrativa ha qualcosa da raccontare. Mi sono divertito un sacco anche solo a esplorare il mondo di gioco, vuoi per un sistema di movimento che offre un incredibile senso di libertà e velocità che nessun altro titolo dedicato a Riccio Blu era riuscito a restituirmi, vuoi per le innumerevoli fasi platform e tanti puzzle sparsi letteralmente ovunque che impreziosiscono enormemente l'avventura, e cercare di completare al 100% ogni stage presente, tra alti e bassi, è stato uno spasso. I limiti si notano, sono lì e si fanno costantemente sentire, limiti legati a un budget non stellare e a un team tutto sommato esiguo, si parla di circa una sessantina di membri, ma questa nuova visione per il brand, queste nuove basi poste per sorreggere il futuro della serie mi fanno ben sperare. Sonic Frontiers, pur con tutti i suoi limiti ed elementi ancora grezzi, mi è assai piaciuto, è stato vero e proprio amore dal primo istante fino ai titoli di coda, se siete fan della saga non dovete lasciarvelo scappare. A questo punto aspettiamo e vediamo, aspettiamo e vediamo per il futuro di Frontiers, visto che già sono stati confermati diversi DLC gratuiti che andranno ad aggiungere nuove sfide, nuovi personaggi utilizzabili e tutto un altro pezzo di storia, ottimo così, ma anche per il futuro del brand e per ciò che saprà offrirci il prossimo capitolo, sperando solo che non saranno presenti lupi mannari, spade parlanti, mitra, principesse con peculiari desideri sessuali, quest'orrore, geni usciti da un anello, overboard volanti, sto character design, evitate tutto questo e forse avremo un bel gioco. Forse. 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 Forse.